Napoletania in Barcelona, oggi a Città della Scienza per la giornata mondiale della Scienza per la Pace. Qual è l'importanza? A me fa molto piacere essere qui oggi a Città della Scienza anche perché è una giornata dedicata alle comunità stamere che vivono a Napoli. Credo che non bisogna dimenticare che i napoletani continuano a vivere all'estero, continuano ad andare fuori dalla propria città e non sempre per libera scelta. Quindi queste giornate servono anche per riscoprire questa napoletanità che vive all'estero, queste napoletane che sono lontane da Napoli e che in molti casi vorrebbero tornare. Quindi io spero che in futuro non ci sia più la necessità o l'obbligo di andare via da Napoli, ma ci sia soltanto una libera scelta di andare fuori per fare un'esperienza di vita e magari poi ritornare.